La rimozione del divieto di viaggio negli Stati Uniti ha fatto sì che Harry e Meghan devono visitare la regina con la piccola Lilibet, ha affermato un esperto. L'esperto ritiene che, poiché il divieto di viaggio negli Stati Uniti non è più in vigore, non può essere utilizzato come scusa dal duca e dalla duchessa per non aver visitato la regina. A seguito di un recente annuncio, gli Stati Uniti revocheranno il divieto di viaggio nel Regno Unito dall'inizio di novembre. Ciò significa che il principe Harry e Meghan Markle, entrambi con sede in California al momento, possono visitare la regina in Inghilterra. Ancora, Harry, 37 anni, e Meghan, 40, non sono mai tornati a visitare la regina insieme da quando avevano fatto il viaggio in America per una nuova vita. Tuttavia, parlando al Sun, l'esperto reale Adam Eleicher ritiene che un ritorno di Meghan e Harry insieme sia imperativo per l'unità familiare. Il signore Eleicher crede che se il principe Harry e la signora Markle dovessero tornare a casa, il viaggio sarebbe una visita privata di famiglia e un profilo molto basso. . Durante questa visita, Eleicher crede che la coppia visiterà solo i reali chiave, tra cui il principe Carlo, Camilla e il principe William. Eleicher ha dichiarato al Sun. Penso che sia imperativo per l'unità familiare che l'intera famiglia venga qui perché, per dirla senza mezzi termini, la regina sta invecchiando e queste non torneranno troppo spesso. Penso che Harry si sentirà particolarmente in colpa se non vedrà i pronipoti che non ha visto molto o la pronipote che non ha visto affatto. Penso che se cercheranno di sistemare le cose e speriamo tutti che lavoreranno per aumentare ciò che rimane dell'unità tra loro e la famiglia allora penso che sia fondamentale che inizino a pianificare un viaggio forse per l'inizio di dicembre. Dubito che ovviamente vogliano essere limitati a passare i Natali a Sandringham. Ma forse un viaggio prenatalizio a metà dicembre per salutare la famiglia. Per Harry, quei legami familiari fino a quando non è stato incoraggiato da lei a romperli erano davvero importanti.